Un'imposizione fiscale leggera pari solo al 5%, poter continuare ad esercitare la professione medica anche se irradiati, l'esenzione dall'obbligo vaccinale, l'acquisto di terreni con annesso titolo nobiliare. Sono alcuni dei vantaggi promessi a 700 persone di tutta Italia, vittime di un raggiro fantasioso, la cittadinanza dell'inesistente stato teocratico antartico di San Giorgio, con tanto di documenti di riconoscimento falsi, ma simili a quelli internazionalmente riconosciuti, in cambio di somme di denaro. Una truffa che avrebbe fruttato 400.000 euro. A scoprire il raggiro Ladigos di Catanzaro, in collaborazione con diverse questure in varie regioni. La scoperta dopo una perquisizione nel capoluogo calabrese di un immobile dove era indicata la sede diplomatica dello Stato fantasma. 12 persone sono finite ai domiciliari, una sottoposta all'obbligo di firma e altre 30 sono indagate in stato di libertà. Le accuse sono di associazione per delinquere, truffa, fabbricazione e possesso di documenti falsi validi per l'espatrio e riciclaggio. I soldi raccolti sono finiti sul conto di un'altra sede diplomatica fittizia a Malta.